La nostra capolista, Maria Graziella Serra. Grazie a tutti per essere qua oggi, è veramente un'emozione. Sappiamo che la coalizione centrosinistra vincerà le prossime amministrative. Ringrazio Stefano Urbrano, ringrazio tutti gli amici della coalizione che sono voluti venire a inaugurare insieme a noi questa sede. C'è un aghero migliore, aveva e ha un grosso impegno che è quello di fare una lista civica alle prossime amministrative. Io avrò l'onore di essere la capolista. È un onore che veramente mi inorgoglisce moltissimo perché penso che tutti i principi, tutti gli obiettivi con i quali noi abbiamo fatto tutta la campagna delle primarie siano una grande risorsa per il centrosinistra al Gherezze. Principi e obiettivi. Principi. L'assemblea pubblica come metodo costante e continuo di discussione politica. Principi, lavoro, ambiente, trasparenza amministrativa e tanti altri. Ve li abbiamo raccontati durante la campagna delle primarie. Sappiamo che attraverso questi principi e attraverso questi obiettivi noi riusciremo a vincere e a trasmettere questi valori all'intera coalizione. E sappiamo che attraverso questi valori e attraverso questi principi saremo in grado veramente di dare un segno di grande discontinuità. Perché questa è la nostra forza, la discontinuità col centrodestra che ha governato questa città per dieci anni, la discontinuità con tutte le forze politiche che hanno governato questa città malissimo e noi della discontinuità abbiamo fatto il nostro principio ispiratore e sappiamo che è il principio ispiratore di tutta la coalizione. Per cui, avanti, forza! Ce la faremo! Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno lavorato per l'apertura di questa sede e quindi un ringraziamento di cuore a tutta c'è un aggero migliore per il dinamismo, per la creatività ma soprattutto per le idee importanti che hanno portato all'attenzione della nostra città e idee con cui noi abbiamo trovato immediate e piena condivisione. Come ricordava prima Maria Graziella, noi andiamo avanti, andiamo avanti con questa coalizione centrosinistra con un unico obiettivo che abbiamo la certezza di raggiungere, che è la vittoria. Grazie infinita.